si narra che una principessa fenicia figlia del re di tiro sia stata sedotta da zeus sotto le sembianze di un toro il dio che amava a cambiare aspetto si invaghisce della fanciulla questa fanciulla si chiamava europa mentre lei coglieva fiori in un prato e se ne adornava insieme alle ninfe zeus si trasformò in un toro dal colore quale neve non calpestata da orme di greve passo che nulla di minaccioso ha nell'aspetto nello sguardo incute paura espressione foriera di pace così ovidio nella metamorfosi ci descrive zeus metamorfizzato in toro zeus distrae quindi la fanciulla con il profumo dei fiori e la conduce fino a creta cavalcando le onde del mediterraneo da questa unione deriva l'intera stirpe dei fenici minosse re di creta il re dell'alicia e ancora radamanto giudice degli inferi questo è il mito di europa si tratta di un mito che può essere inteso come una vera e propria cosmogonia che narra di origini che unisce terra mare cielo continenti popoli elementi celesti ectoni quindi elementi potremmo dire così pesanti ed elementi aerei il mito si compone di tre elementi strutturali ciascuno dei quali è già di per sé molto evocativo il toro la donna l'acqua sta qui forse anche il segreto della ricchezza interpretativa che ha caratterizzato da sempre questo mito il toro rappresenta evidentemente la virilità l'autorità il potere il rapporto tra l'essere umano e la natura e peraltro il toro come elemento octonio quindi della terra anticeleste diciamo elemento oscuro d'altra parte il mare simbolo della fluidità del movimento diciamo di una visione talassica della vita quindi anche della cultura della società e della realtà stessa ancora al centro quasi a fare da diapason diciamo ad armonizzare tutti questi elementi vi è l'elemento femminile la donna cioè appunto europa che viene spesso raffigurata come una fanciulla rapita ingannata dal toro ma anche come colei che alla fine doma e domina il questo suo seduttore divino metamorfizzato in belva ma c'è anche un'altra interpretazione naturalmente una dell'interpretazione antropologica è quella per la quale appunto il ratto di europa il mito di europa sia appunto una un ingentilimento diciamo così una trasposizione mitica del del fenomeno ecco dello sposalizio in particolare dell'antico costume del matrimonio con ratto con rapimento e poi in generale a livello della società come passaggio dalla società dalle società matrilineari alle forme di patriarcato per così dire moderno ma un altro elemento che non può essere diciamo non citato è l'elemento della violenza il l'amplesso con il con con il toro cioè con zeus metamorfizzato in toro può essere ingentilimento di antichi echi di un eco di andi antiche di antichi amplessi zoofili inoltre al centro vi è la violenza del dell'atto diciamo così quindi ho utilizzato questo questo mito per diciamo caratterizzato da tutti questi elementi e compreso l'elemento violento comunque l'elemento come dire ambivalente ecco per dar vita ad una installazione dal titolo appunto europa un'installazione caratterizzata da materiali molto particolari per così dire oro edibile in parte e poi diciamo questa questa sorta di ampolla di vetro che è stata posta su un letto costituito da orecchie di maiale essiccate e ancora della altra carne essiccata e poi dentro l'ampolla più piccola che caratterizza questa sorta di menage vitreo si trova un pelo pubico femminile quindi il tutta questa ridda per così dire di materiali inusuali fa da forma nella quale va ecco trasfigurarsi questo contenuto mitologico che però ha una sua valenza politica appunto mediante il mito della della ninfa con questo sfondo di di violenza e di rapporto ambivalente con il concetto di potere di autorità ecco ho voluto appunto attraverso il quella forma di conoscenza che poi la conoscenza mitologica ho voluto diciamo dar vita delle suggestioni anche politiche e politiche concentrate ecco sull'attualità un'attualità che vede l'europa certamente in un momento in un'epoca di smarrimento della propria identità diciamo come dire fa parte di ciò anche ciò che è successo in grecia un'europa che evidentemente non ecco non è riuscita ad attenzionare per come forse invece avrebbe meritato un paese come la grecia appunto la cui cultura non è altro che il fondamento della identità europea qualora ve ne fosse una ed ecco io con con questa installazione con questi materiali inusuali anche con un tocco irriverente da certi punti di vista ma d'altra parte mediante l'uso della della narrazione mitologica che per me ha un'altissima forma di conoscenza ho voluto quindi appunto riattraversare il mito per far luce sul presente sulla più stretta attualità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti